L'incremento dei casi totali di Covid-19 in tutta Italia rispetto al giorno precedente è di 132.274 casi e di questi in Sicilia se ne registrano 9.993. Questi numeri aggiornati al 5 luglio, consultabili attraverso il sito del Ministero della Salute. L'aggiornamento sempre del 5 luglio dell'Aspenissena in particolare, riferita alle 24 ore precedenti, parla di 646 pazienti positivi al SARS-CoV-2, tutti in isolamento domiciliare. E per l'esattezza 186 pazienti di Gela, 156 di Caltanissetta, 46 di San Cataldo, 44 di Niscemi, 32 di Mussomeli, 28 di Sommatino, 27 di Mazzarino, 22 di Riesi, 21 di Sera di Falco, 16 di Butera, 16 di Delia, 13 di Vallelunga Pratameno, 7 di Campofranco, 6 di Santa Caterina Villarmosa, 6 di Villalba, 5 di Sutera, 5 di Milena, 3 di Marianopoli, 3 di Montedoro, 2 di Acquaviva Platani e 2 di Resultano, 8 le persone ricoverate invece in degenza ordinaria, 2 pazienti di Caltanissetta, 1 di Mazzarino, 1 di Villalba, 1 di San Cataldo, 1 di Mussomeli, 1 di Gela e 1 di Riesi. Dimesso sempre dalla degenza ordinaria, un paziente di Caltanissetta. Si registra inoltre un decesso di un paziente di Santa Caterina Villarmosa. Guariti 49 pazienti di Caltanissetta, 34 di Gela, 21 di Niscemi, 7 di Mussomeli, 7 di San Cataldo, 7 di Sera di Falco, 6 di Vallelunga Pratameno, 5 di Mazzarino, 5 di Riesi, 5 di Sommatino, 4 di Butera, 4 di Campofranco, 4 di Milena, 3 di Delia, 2 di Santa Caterina Villarmosa, 2 di Villalba, 1 di Montedoro e 1 di Sutera. Grazie a tutti.